Buonasera a tutti e benvenuti. Con oggi l'incontro definisce l'inizio di una ulteriore fase del piano regolatore, della stesura del piano regolatore. Infatti abbiamo deciso di mettere insieme due momenti. Da un lato la presentazione di Alberto Del Panta che è il professionista l'architetto al quale abbiamo deciso di dare l'incarico per proseguire il lavoro di facilitatore di Poverone più facile. Abbiamo scelto Alberto perché ha partecipato a tutto il Poverone più facile, quindi l'ha distrutta in tutto il suo percorso e ci sembrava opportuno che qualcuno che conoscesse cosa era successo, quali erano i presupposti che avevano strutturato definito questo percorso partecipativo, lo traghettasse e continuasse il lavoro di definire l'identità di questo, che dovrebbe essere un contenitore all'interno del quale vanno a confluire tutte le varie progettazioni e iniziative che caratterizzano l'amministrazione, anche se ad oggi ospita solo il piano regolatore e tutto quello che noi stiamo costruendo del piano. Quindi questa è una prima parte. La seconda è quella invece relativa alla presentazione dei scenari che facevano parte dell'incarico e del disciplinare d'incarico che hanno sottoscritto i professionisti che hanno vinto il bando per la redazione del piano regolatore e poi vi mostreremo un elaborato in fase di redazione, nel senso che abbiamo deciso, visto le modalità con le quali abbiamo condotto fino ad oggi il lavoro, di non presentarci con una bozza chiuccia, con il piano struttura definito, ma con una bozza in itinere, cioè in un momento intermedio, proprio perché dal nostro punto di vista questo dovrebbe aiutare a saturire, a generare una discussione, un dibattito su quelli che sono i punti che noi abbiamo e consideriamo fondativi per il nuovo piano regolatore. A fianco a questo però vogliamo anche presentarvi stasera il RAP, che è il Rapporto Ambientale Preliminare. Faccio questa specifica perché è quello effettivamente uno degli strumenti fondamentali per valutare la coerenza tra ciò che è stato dichiarato inizialmente e le scelte che noi stiamo prendendo in fase di stesura del nuovo piano regolatore. In pratica la valutazione ambientale strategica che viene svolta da professionisti che sono diversi rispetto a chi redige il piano, ha la finalità di controllare e valutare la sostenibilità ambientale delle scelte che vengono assunte all'interno del piano regolatore. È uno strumento estremamente importante perché è quello che sulla base di indicatori e di elementi definiti scientifici e analitici è in grado di dirci se siamo coerenti e quindi stiamo effettivamente perseguendo e realizzando con le azioni e con la modalità che stiamo mettendo in atto quelli che sono gli obiettivi che abbiamo deciso di perseguire con la delibera di direttive che è stata assunta dal Consiglio Comunale. Per riassumere il percorso, come non è più facile, ha attivato una parte di consultazione iniziale con i cittadini, ci sono stati dei laboratori dai quali è uscita sia la percezione che i partecipanti hanno dato della città per com'è, ma anche le indicazioni di dove si vorrebbe arrivare con la struttura di uno strumento di pianificazione a media e lunga scala come è un piano regolatore. Questi elementi sono andati a finire nel testo unico che avete alle spalle, che abbiamo qui assunto alle spalle e che è stato consegnato ai professionisti nel momento in cui hanno avuto l'incarico. I professionisti hanno sviluppato un'altra parte di analisi, dando un documento di sintesi dal testo unico, dagli indirizzi quindi emersi dal Pordenone più facile della consultazione, da tutta una serie di studi alate che erano lo studio socio-economico del territorio, l'annesi di attuazione degli strumenti di verificazione di recendo e dal documento di sintesi ne è scaturita la delibera di direttive, che è il documento politico col quale il Consiglio Comunale ha detto questi sono gli indirizzi che dovrà avere il piano regolatore e che ha fatto sue le indicazioni del testo unico, cioè il Consiglio Comunale ha accolto quelli che erano gli indirizzi che uscivano dal percorso partecipativo di Pordenone più facile, facendo le proprie con una delibera, cioè con un atto ufficiale. I professionisti poi, seguendo la modalità che è stata concordata, cioè quella del proporre degli scenari che sono delle modalità valutabili di attuazione del piano, hanno sviluppato appunto i tre scenari che vedete stampati qui e hanno poi nel frattempo elaborato ulteriori analisi e studi propositivi. A fianco a questo parallelamente si è sviluppato con altri professionisti che stasera ci racconteranno appunto quelle che sono le loro analisi, hanno sviluppato il rapporto ambientale preliminare che è lo studio che è stato fatto direttamente sugli scenari per valutare la sostenibilità ambientale degli stessi rispetto a quelli che sono i principi della valutazione ambientale strategica. Il rapporto ambientale preliminare è già stato inviato sia agli enti che hanno competenze in materia e quindi hanno obbligo ad esprimersi e quindi a dire se il RAP è completo o no. È stato mandato, non ampliando quella che è l'indicazione della norma, a tutti i comuni con termini cordenone perché ci sembra fondamentale che anche essi possano esprimersi sulle nostre pianificazioni ed è anche stato pubblicato sul sito di Pordenone più facile. Quindi chiunque di noi lo può prendere, lo può scaricare, sono solo 192 pagine, lo può leggere però che assicuro una lettura interessante perché è una lettura, il primo rapporto ambientale fatto sulla città di Cordenone. Quindi ci dà delle indicazioni su che cosa siamo e su come stiamo, dove ci sono evidenziate le criticità e anche le cose che sono nel qualissimo meglio. Ma non abbiamo naturalmente voluto in qualche modo esulcorare la pillola. Quello siamo noi. Quindi questo momento ha la fondamentale importanza di controllare e di valutare quello che si sta facendo, di valutarne la sostenibilità, ma oltre a questo anche la volontà di mostrare un documento in itinere. Quindi voi stasera non vedrete il piano struttura, vedrete uno step. Noi stiamo costruendo il piano struttura. Ci sembrava però importante arrivare a confrontarci e a presentarvelo in una fase che ancora appunto non è un documento chiuso, ma è un documento in itinere. A questo punto io lascio la parola ad Alberto che sarà il, non il conduttore, ma che assume il ruolo che in passato noi avevamo visto svolto da Monia Guarino e che adesso avrà il compito non solo di condurre gli appuntamenti di programma più facile, ma anche di, e questa forse è la più grande sfida, di capire quale può essere lo sviluppo e il divenire di questo, che non deve essere un contenitore solo alimentato dall'amministrazione, ma che avrebbe proprio bisogno invece di essere assunto come responsabilità e come momento di confronto fattivo tra amministrazione e coloro che vogliono portare in un'ottica di propositività delle iniziative o un pensiero per la propria città. Ringrazio Alberto e gli passo la parola. Grazie a tutti.